cari amici sono roberto di sicilia nascosta itinerari poco conosciuti oggi vi porto al ponte di calatrasi e al suo castello vi farò vedere la sua bellezza e racconterò la sua leggenda e un po della sua storia iscrivetevi al mio canale youtube sicilia nascosta minerari poco conosciuti lasciate un pollice in su condividete il video con i vostri amici e attivate la campanella per essere avvisati per i prossimi video buona visione la leggenda racconta che fu costruito in una sola notte da un demone oggi sicilia nascosta vi porta al ponte di calatrasa il ponte di calatrasi è ubicato nella stessa contrada del castello si trova nella valle sotto il monte maravusa e attraversa il ramo destro del fiume belgio circondato da meravigliosi campi coltivati a grano fu sicuramente costruito per collegare l'abitato al murino che ancora si vedono i rudi non è chiaro che appartiene allo stesso periodo del castello sulla data di costruzione si pensa che sia della seconda metà del dodicesimo secolo infatti è un'architettura saracena un arco unico a sesto acuto a doppia ghiera e l'assetto è a schiera d'asino il ponte è buono stato di conservazione ma mancano i parapetti di sicurezza e per questa ragione che per la sua leggenda viene chiamato il ponte del diavolo si racconta che il ponte fu costruito in una notte dagli spiriti chiamati e per questo non costruirono i parapetti e se gli abitanti cercavano di farli loro li demolivano visto dall'alto è ancora più bello si vede quel progetto e quel disegno del periodo saraceno come tanti ponti che si trovano in sicilia però forse questo è uno dei pochi che non ha un parapetto forse addirittura è l'unico che si trovano in sicilia attraversato il ponte si vedono le cascatelle che scorrono tra le rocce e le sue acque si perdono tra insenature e ampratti per poi perdersi tra gli immensi campi il panorama è meraviglioso accatto al ponte troviamo i resti di quello che è rimasto del murino che fino a metà del novecento era ancora in funzione e produceva farina con il grano di quelle terre ma le origini si perdono nel tempo si vede chiaramente il corso del canale che si immetteva nella torre dell'acqua in questo modo la macina ruotava durante gli scavi sono stati rinvenuti in questo luogo anfore e superlenti che sono datati XII e XIII secoli il castello si sale al periodo islamico del 1093 e il suo nome era Kalatak Zurich un viaggiatore arabo Mohammed Idris nel 1150 parla di un castello abbastanza appariscente e fortificato molto valido e sicuro una notizia certa e documentata risale al 1222 quando Federico II lo liberò definitivamente dai musulmani ribelli che qui con altri castelli avevano posto le ultime roccaforti di difesa prima di essere cacciati definitivamente nel 1246 dopo quest'evento le notizie del castello e del feudo sono frammentarie nel 1351 venne chiamato il covo della Trones perché pare sia stato abbinato ad alcuni briganti che gli rudero ora sono rimasti soltanto dei rudero spero che il mio racconto su Sicilia Nascosta vi sia piaciuto al mio prossimo video ciao 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 ciao